spuntini un pensiero e via con giacomo casolari la verità è figlia del tempo e non dell'autorità sir francis bacon filosofo e statista inglese verità figlia del tempo e non dell'autorità si dice che il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi e a volte la verità rimane nascosta per l'astuzia dei dominatori del tempo ma poi la verità è più forte perché rimane stabile e i propotenti muoiono ma la verità resta e non può essere annullata la verità rimane sempre la verità viene sempre fuori la verità ha vita in sé la verità non è come le bugie che si dissolvono come la nebbia al sole la verità rimane vera sempre e chiunque la incontra la riconosce e così è successo anche anche del nostro signore l'amore di dio è stato manifestato in gesù cristo e questo amore e questa verità rimangono sempre qualcuno ha cercato di spegnerlo di ucciderlo ma l'amore di dio per noi rimane immutabili hanno ucciso gesù ma la sua voce si ode ancora la sua voce si sente ancora e la potenza della sua resurrezione continua anche oggi tutti quelli che credono in gesù vivono questa resurrezione vivono il sapore di questa resurrezione non temere se sei vittima di bugie non temere se sei vittima di diffamazioni se hanno infamato il tuo nome la tua persona la verità nel tempo uscirà in tutta la sua forza e tutti quelli che vorranno vederlo lo vedranno e chi vorrà ignorare continuerà ad ignorare come ancora oggi molte persone continua continuano ad ignorare la grazia di dio continuano ad ignorare l'amore di dio ma chi lo vuole vedere chi lo vuole conoscere chi lo vuole riconoscere l'amore di dio è veramente evidente evidente nel sacrificio di cristo evidente nell'espressione nella vita della fede di tutto il popolo di dio perché tutti quelli che credono anche oggi dopo tanti anni ricevono da quella stessa verità forza illuminazione grazie dio ancora oggi ci riveste della sua grazia del suo spirito ancora oggi dio da potenza la sua parola perché tutti quelli che credono ricevono vita ancora oggi riceviamo benedizione semplicemente per quella verità dell'amore di dio manifestato in cristo gesù quindi direi anche tu ritrova in gesù la via quella verità che ti dà la vita quella verità che ti cambia la vita quella verità che continua a dare vita a tutti quelli che credono che dio ti benedica un abbraccio da giacomo spuntini un pensiero e via con giacomo casolari grazie a tutti